Questa sera è un piacere davvero particolare perché ritrovo un amico di vecchia data che non vedevo da tempo, lasciamo perdere, da quanti anni, non è il caso qua, ed è il professor Tullio Sammito, una lunga carriera di docente, una volta si diceva preside, poi oggi di dirigente scolastico, poi essendo professore di lingue, Tunisi ed Atene per i vari istituti italiani legati a questo fatto. Perché l'abbiamo perché martedì prossimo, se non fate rato, Tullio presenterà un suo libro del quale ora vi parleremo, che è una cosa un poco diversa da quello di cui parliamo di solito, che ha un titolo molto minimalista, ma è ancora più minimalista relazionato all'importanza della vicenda che racconta, che è il piccolo libro del destino di Cioia Salare. Allora Tullio, in questo libro che noi ci guardiamo bene da raccontare come quelli che sono esperti della lingua del bionico, di spoilerare una parola di una bruttezza infinita, in questo libro tu racconti una storia familiare, personale, che è tuo padre e una scoperta di un fratello che non sapevi di avere, quindi è un percorso non di iniziazione, ma di conoscenza, suffragato da supporti storici, nel quale la mia domanda è un'altra, cosa vuol dire scoprire da grandi di avere un fratello? O un parente, come così? Certo, è un'esperienza, sarà banale dire unica o specialissima, particolare, perché è affiorato questo, noi sapevamo, cenni accennati, ma nulla di preciso, quando io, tutta l'infanzia, ma una cosa lontanissima, per giunta censurata, segreta, perché i tempi… Poi se un ragazzino si raccontava che papà si era dato da fare in altri tempi… Non se ne parlava in famiglia, però presso i parenti, soprattutto quelli non di Ragusa, questa cosa era conosciuta, ma non c'erano contatti e non c'era niente. Poi purtroppo con la tragedia di vita, della morte precocissima, in giovanissima età, 45 anni, di nostro papà, tutto cadde nel dimenticatoio più assoluto. Fino a? Fino a quando io in pensione, 4, 6 anni fa, sono andato, ero curioso, avevo questo, non tarlo, ma sicuramente qualcosa che mi incuriosiva, l'anima, più che… Altri in altri tempi ero detto in richiamo la voce del sangue. Più che l'anagrafe, certo. E ho cominciato giocando, scherzando, con internet, non sapevo neanche la città dove… Sapevi però che era Friuli, quella zona lì? No, neanche il Friuli. Sapevi Nord Italia sì però? Nord Italia sì. E poi con un parente lontano, collaterale di Scicli, ho avuto un'imbeccata che riguardava il Friuli, il Grado, che è la città attuale di nostro fratello ritrovato, e quindi è stato tutto più facile. Quindi si è concluso tutto nel 2020, quando… In piena era Covid, eh? Sì, è stato immediatamente prima. Ancora non c'era nulla di tutta quella… Si poteva muovere ancora. Sì, ci si poteva muovere. E alla fine c'è stato il contatto, poi c'è stata la scoperta, l'amicizia, con corresponsione di sentimenti addirittura più forti dei nostri, qui, dei fratelli del Sud. E siamo andati e abbiamo avuto questo grande incontro di sangue, di spirito, di anima. Allora, una curiosità, il momento dell'incontro. Il momento… Diciamo, sotto altri profili potrebbe sembrare quella che veniva detto una volta una carambata. Com'è stato il momento? Il momento dell'incontro è documentato nel libro ed è stato il momento culminante di qualcosa di… Un percorso. Bellissimo, di un percorso. Allora tu questo libro lo presenterai, credo, martedì, dicevamo, alla biblioteca. Alla biblioteca. Io sono convinto che è il luogo deputato per la presentazione dei libri. Bravo, io sono contento molto più che se avessi avuto qualunque altro posto. Ma io penso che sia… Perché condivido perfettamente ciò che tu… Ho detto con dispiacere che di notte è scarsamente illuminata, che non è illuminata la… C'è una targa messa dalla Casa delle Donne, che la sera ho avuto occasione di presentare un libro in cui ho contribuito in parte insieme a mie moglie, che è una parte della sua tesi di laurea. E proprio vanno presentate in biblioteca. Dovrebbe essere la biblioteca che si dovrebbe attrezzare con la sala apposita. Perché io credo che l'umanità non abbia fatto niente di più grande della biblioteca. Che è la cosa più democratica che esiste. Anche il più povero essere umano può andare in biblioteca e avere accesso a un patrimonio infinito. Lasciamo perdere. Ripeto, in questo racconto parte da tuo padre che ragazzo va all'Orientale a Napoli. Essendo diplomato è obbligato durante il periodo della guerra a fare il soldato come ufficiale. Perché allora era per legge, quindi va in friù. Poi c'è l'8 settembre, c'è tutto quello che è collegato a questo. Bene, detto questo, una curiosità personale. Questo è il tuo rapporto. Il resto della famiglia come l'ha preso questo? Bene. Io cito nelle note a margine della trama e del libro dei modi di dire e delle situazioni di spirito e affettivo dei miei due figli. Che hanno accettato la cosa e anche me stesso in maniera meravigliosa. Perché conoscono la vita e perché sono consapevoli che siamo tutti legati a un destino che è inarrestabile. E poi ancora una volta, per quanto uno scrittore possa essere fantasioso, la vita lo batte sempre. La vita è sempre più capace di creare roba più inattesa, più varia, più particolare, più fantasiosa anche della vita. Io ripeto, sempre col concetto che i libri non si raccontano ma si comprano e si leggono, invito la gente ad andarlo a vedere questa presentazione perché è l'occasione di raccontare, di ascoltare una storia vera, una storia autentica. Una storia dove c'è molto di un'Italia che purtroppo non c'è più. Sì, assolutamente. E c'è molto di un'Italia, di un padre, io ho conosciuto di sfuggita, tu padre, appena, pochissimi anni prima che morisci. Certo. E questo mondo, di questa gente, come tu pare, come mi pare, con queste persone delle generazioni precedenti alla nostra, credo che ci siano migliaia di storie di questo genere, che magari non tutti con figlie, però sicuramente, che meriterebbero di essere non solo portate alla luce per farne un romanzo, ma come veramente, come diritto alla memoria, diritto al non obbligo. Perfetto. Io direi avremmo il dovere del non obbligo. Condivido, perfetto. Il dovere del non obbligo. E allora, con questa occasione, Tullio ci darà modo di poter ovviare a questa piccola, grande dimenticanza, esasperata poi da un mondo che, viaggiando col web, dopo 30 secondi tutto diventa obsoleto. Ma molto brevemente, abbiamo un minuto circa, Tullio, anche uno di quelli che cura un po' l'attività dell'Accademia Italiana della Cucina, che giovedì celeberà i settant'anni. Il settantesimo anniversario dalla fondazione. Non ha una sede, ha comunque una serie di adepti, diciamo, questo tema nel senso buono. C'è un rappresentante, un responsabile? Sì, il responsabile Vittorio Sartorio, ma poi c'è anche il presidente attuale. Diciamo che lui è lo storico che tiene da sempre l'Accademia a Ragusa. E in questa Accademia della Cucina, io vedo, questo è un volumetto, questa Accademia della Cucina, l'Accademia della Cucina, brevemente, qual è la funzione? Fu fondata da Orio Vergani, scrittore, che insieme ai più alti esponenti della Milano degli anni 50, compreso Arnoldo Mondadori e compresi anche diversi industriali dell'epoca, diede luogo a questa istituzione che difendesse e portasse all'estero la fama della cucina italiana. In un momento in cui non era come oggi, dove tranne finora le messe e le partite di calcio, non si parla, la cucina c'era trovata, in un mondo in cui la cucina italiana cominciava a muovere i primi passi per poi diventare quella cosa eccezionale. Il titolo è simbolico, perché celebra il settantissimo anno. Le origini, l'evoluzione e il futuro. Detto questo, questo sarà giovedì 19, volevo però... Se permetti che edita, stampa l'Accademia Italiana della Cucina, una bellissima rivista che si chiama Civiltà della Tavola. Perfetto. Ed è una rivista di cucina di primissimo livello e bellissima. Bellissima. Benissimo. Andiamo a chiudere, ricordo, il professore Tullio Sanmito ci ha parlato di questo suo, credetemi, delizioso, il piccolo libro del mio destino, che è piccolo, non è grandissimo come quantità di pagina, ma credetemi, dentro c'è non solo una storia personale che è seguita con molto affetto, in modo scritto ovviamente benissimo, ma c'è uno specchio di un'Italia che, ripeto, non c'è più e che non lo so se è tutta da dimenticare, anzi, se mi permettete, non sono certo un tipo che pensa che il tempo andato fosse migliore, ma forse qualcosina da impararla, capace che l'abbiamo. Tullio, ricordiamoci, martedì alle 18 e andati in biblioteca. Grazie.